Mab & Co. Formazione e strategie per l'evoluzione del business. Mabmanagement.it Il nostro calcio è competente, ad alto ritmo, con la straordinaria carica del... Commenti, aggiornamenti e curiosità con Andrea Sanna e Claudio Pani. Il diritto di cronaca con Vittorio Sanna. Il Cagliari a suon di gol, partita dopo partita, su Radio Supersound. Cosa manca a questo Cagliari? Sì, tantissime cose mi direbbero i tifosi in questo momento e direbbero che bisogna rifondare tutto. Ma se dovessi fare una scala di gerarchie, di bisogni in questo momento, metterei davanti a tutto, e sembra una cosa assurda per molti, non un aspetto tecnico, non un aspetto tattico, ma un aspetto mentale. Al Cagliari manca l'entusiasmo, manca la spensieratezza, manca il sorriso, manca la voglia di divertirsi. È una cosa che percepisco nelle partite che sto continuando a raccontare, anche se a Spezzoni, e che mi rendo conto non trasmettono, non riescono a trasmettere questi elementi. L'entusiasmo, il sorriso, la spensieratezza, la voglia di spaccare, come si usa a dire. Lo vediamo talvolta a sprazzi, lo vediamo in qualche accelerazione in Luvumbo, lo vediamo nella voglia di emergere di Curfalidis. Se volete, anche nei giocatori che non sono dei giocatori che alla fine stanno incidendo tantissimo, lo apprezzo nella voglia di correre di zappa. Ecco, per dire che anche quei calciatori che stanno faticando però devono essere, secondo me, sul pezzo. A questo Cagliari manca l'entusiasmo, manca quella, in sudamericano, molti la chiamerebbero anche garra, ma una garra positiva, non una garra portata alla lotta e al bisticcio, perché quello è nell'aria, ma una garra che porti al sorriso, al divertirsi attraverso il calcio. Manca il giocare al calcio. Secondo me c'è bisogno veramente di una botta di entusiasmo all'interno del Cagliari che possa cambiare la situazione. E quando parlo di botta di entusiasmo, non parlo solamente a una botta di entusiasmo che possa essere trasmessa verso i tifosi. Secondo me manca all'interno veramente qualcosa che riprenda a far sognare. Il Cagliari è preso dagli incubi, è stressato dalle paure, dagli obiettivi, dalle pressioni. È un Cagliari che non sogna più, perché non è ai mezzi forse, ma anche perché probabilmente nell'ambiente non si respira questo. In questi giorni si parla tanto di cambio, si parla tanto di sogni, anche proiettati purtroppo alla sostituzione di un tecnico, purtroppo perché comunque stiamo parlando sempre di una persona che poi andrebbe incontro a una delusione. Ecco, ad esempio, se per caso si dovesse arrivare a dover sostituire i Liberani, fossi io Giulini, mi darei, prima di tutto per lui stesso, una botta di vita andando a prendere qualcosa di importante. I tifosi chiedono Claudio Ranieri. Ecco, forse dal punto di vista di Giulini prenderei Claudio Ranieri. Lo prenderei per due motivi. Uno perché mi affiderei a un uomo esperto e in qualche modo avrei la possibilità di confrontarmi con un grande maestro di calcio. Contemporaneamente abbatterei le distanze con i tifosi che sono veramente molto lontani in questi momenti da quello che l'ha, soprattutto il vertice della società. Ecco, riprendiamo a sognare e se proprio dobbiamo cambiare, cerchiamo di cambiare dandoci una bella botta di vita.